E Camusso nella due giorni in regione si espressa anche in merito alla piaga degli infortuni mortali sul lavoro che in base a una recente ricerca dell'Inail vedono il Friuli Venezia Giulia registrare nei primi nove mesi dell'anno l'incremento maggiore delle denunce a livello nazionale con il più 4,1%. E se di lavoro si continua a morire c'è, secondo la segretaria generale della CGL, una precisa responsabilità politica. Giovanni Taormina. Ritorna anche oggi da tricesimo sulle morti sul lavoro Susanna Camusso che ha confermato le dure parole pronunciate a Pordenone. La segretaria generale della CGL che ha definito impressionanti i numeri dell'escalation infortunistica in Friuli Venezia Giulia dove sono già 23 i morti sul lavoro dall'inizio dell'anno. Camusso ha puntato il dito contro la precarietà che significa meno informazione, meno conoscenza dei rischi da parte dei lavoratori e contro il silenzio inaccettabile da parte delle imprese. Se di lavoro si continua a morire c'è anche una responsabilità politica perché gli infortuni sono evitabili. Ma qualcosa in regione dopo l'impasse si sta muovendo per cercare di dare una risposta alle morti sul lavoro. Abbiamo deciso di iniziare un percorso assieme a tutte le istituzioni che si occupano di sicurezza e di regolarità all'interno del mondo del lavoro per arrivare alla sottoscrizione di un protocollo che permettesse innanzitutto forme di collaborazioni nella verifica e nella messa in comune dei dati e percorsi di formazione che io ritengo importantissimi per la salvaguardia delle vite umane. Tempi per la firma? La regione ha già dato l'autorizzazione alla sottoscrizione. Adesso acceleriamo e io mi auguro che entro i primi giorni del mese di novembre si arrivi alla sottoscrizione da parte di tutti i soggetti. Mi pare che l'assessore si sta muovendo bene perché per l'appunto tenta di dare una risposta di sistema. Cosa può fare il sindacato? Può contrattare condizioni di lavoro più a misura umana. Poi deve, quando è nei comitati paritetici, mandare i propri uomini nelle aziende, non per punire, ma aiutare le imprese e i lavoratori a mettersi a posto rispetto alle norme antinfortunistiche.